Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, un video che non vedevamo da un po' perché me ne sono tenuta alla larga visto che sto cercando di mangiare meglio, diciamo che il Lidl non è il posto giusto dove andare se vuoi mangiare meglio perché, cioè per carità è un supermercato come un altro, ma lo sappiamo tutti che quando tu entri al Lidl trovi un sacco di schifezze buone e non riesco a resistere quindi era un po' che non andavo, mi tenivo alla larga dal Lidl anche dalle varie settimane infatti è un po' che non faccio video, provo tutte le cose della settimana per fortuna non ci sono state grandi settimane, anche questa volta c'è la settimana americana che ancora non è cominciata, comincia giovedì però in realtà sono sempre le stesse cose, quindi se poi volete vedere come erano le cose delle settimane americane andate a vedere i video vecchi perché ho assaggiato praticamente ogni cosa della settimana americana quindi non c'ava troppo senso a boffarmi di schifezze visto che sono brava, sto mangiando bene e sto anche perdendo del peso, la bilancia non mente brava Chiara comunque, sono invece oggi andata a Lidl perché io volevo una cosa volevo prendere solo quello a Lidl e poi ho detto prendo quello, esco e vado all'Eurospin così non mi faccio tentare in realtà stando lì Luca mi ha detto cioè Bubi, puoi prendere le cose che ti servono direttamente qui senza che poi ci fermiamo anche all'Eurospin anche perché in questo momento sta anche diluviando effettivamente sì, non ho preso tutto in realtà ho preso un po' di cose, ma secondo me nell'ottica di fare una spesa per eliminare gli sprechi da mangiare ce l'ho quindi finisco di mangiare le scorte di cibo e poi magari la settimana prossima facciamo una spesa un po' più grande anche perché ho visto che all'Eurospin la settimana prossima c'è il volantino del tutto un euro allora, intanto sono andata a Lidl per prendere una cosa qual è questa cosa che ho preso in quantità forse esagerata? è questo il tofu affumicato questo panetto piccolo è buonissimo cioè io potrei mangiarmi anche solo questo per pranzo o per cena ci si possono fare un sacco di ricette perché io ci faccio tipo la carbonara no, non farò la carbonara chiaramente perché se non cavolo è tutt'uno che so a dieta però ci si può fare la carbonara lo puoi mettere dentro al panino con l'hamburger ma semplicemente lo puoi mettere anche nell'insalata nell'insalata di riso cioè è proprio questo tofu affumicato che è molto buono non amo il tofu non lo compro mai quello normale lo avete visto non sono un amante del tofu credo che non sappia di niente ma questo è meraviglioso cioè mi piace tantissimo e quindi niente, ne ho presi un po' perché quello classico c'è sempre nella confezione grande ce n'è anche un'altra versione che mi sembra che ha l'erbette una cosa del genere ma questo lo mettono solo quando fanno le settimane vag, bi o queste cose qua non so perché non è questo che sia in collezione permanente ma visto che scadeva il 4 luglio e quindi ho davanti tutta l'estate cioè ci mancano due mesi abbondanti perché tutto maggio, tutto giugno non ho preso tantissimo ovvero due tre quattro cinque ma ce n'è altro secondo me perché mi ricordavo di averne preso altro va bene dovrebbero essere sette praticamente ho preso tutto quello che c'era ne ho avanzato pochissimo in fondo al frigorifero perché raga è proprio buono lo mangio con gusto anche per la dieta va benissimo solo che poi non si trova e quindi stavolta ho detto l'altra volta non ho presi due ho fatto un grosso errore perché quando mi è finito stavo per piangere quindi ho detto no stavolta me ne prendo un botto metto là tanto fino a luglio voglio mangiare poi ho preso una busta di insalata perché stasera a cena c'è Giacomino se tutto va bene oddio se non ci allaghiamo visto quanto sta piovendo va bene comunque stasera a cena ci dovrebbe essere Giacomino e Luca voleva prendere Burger King gli ho detto ti prego ve li faccio io i panini perché cioè se ve li faccio io io mi mangio l'hamburger mio classico anche senza pane e viva sono contenta ma se prendi Burger King cioè poi io ti devo guardare che mangi Burger King mentre io mi mangio l'hamburger schifidol dell'idol no te prego cioè ve faccio io i panini a voi tanto vi piacciono fatti da me e almeno io non devo soffrire perché se no non resisto perché poi Burger King tanto bene c'ha il panino quello veggie che è buonissimo quindi cioè no quindi l'ho convinto e mi sa che si sente quanto sta piovendo vabbè quando troppo e quando niente vabbè comunque quindi li ho convinti e faccio io i panini perciò l'insalata va nei panini io mi sono presa questo che in realtà scadeva oggi cioè scade oggi però era pure scontato di un euro e quindi ho detto no 90 centesimi il 30% però ho detto vabbè tanto uno me lo mangio oggi a cena uno lo congelo e me lo mangio in settimana quindi oppure me lo mangio direttamente domani senza congelarlo quindi diciamo che ho preso questi che scadevano perché mi sembrava stupido comprarne altri c'era anche il cordon ble quello della valsoia ma l'ho assaggiato in un video e non mi è piaciuto quindi non l'ho preso c'erano dei nuovi affettati vegani fantastico non so come siano ma sono super curiosa di provarlo questo è affettato vegano a mo' di salsiccia c'è scritto proprio a mo' di salsiccia non so che vuol dire però è figo non so manco di che è fatto a base di olio di colza farina di semi di girasole a mo' di salsiccia succoso e piccante quanto piccante va bene non lo voglio sapere comunque affettato vegano che è una svolta perché regà c'è una delle cose più difficili stando a dieta quindi mangiando un po' meglio è non avere la comodità degli affettati cioè che può essere anche la fesa del tacchino però io non ce l'ho quindi quando trovo queste cose tra l'altro costava pure poco tipo 2 euro gli affettati costano tantissimo e poi c'è pure a mo' di salsiccia con i funghi e poi c'era con i peperoni però sapete a me i peperoni mi fanno un po' male quindi vabbè forse quello con i peperoni lo evitiamo però ho preso i funghi e e questo a mo' di salsiccia ma magari lo assaggiamo pure fatemi finire di rafforare sta roba poi ho ripreso le banane per fare il gelato alla banana dal freezer quindi le taglio tutte a pezzi le congelo perché quelle dell'altra volta le ho finite e poi ci faccio il gelato semplicemente tirando fuori un po' di banane metti nel frullatore ci aggiungi un goccetto di latte in modo che si amalgama il tutto io ci metto un pezzettino un quadratino di cioccolato fondente mi viene un gelato buonissimo super saziante perché comunque è banana e mi dà un sacco di soddisfazione buono va bene lo faccio andare bene mettiamola così comunque già che eravamo a Lidl c'era questo coso che costava tipo 3,95 di mini avocado verde scureo in teoria sembrano buoni in pratica tanto io sono asticata con gli avocado mi avete detto che se questo si stacca facilmente sono buoni in teoria si è staccato in pratica non lo so lo scopriremo o lo scopriremo sul wiki vlog di domenica o lo scopriremo su instagram perché ormai pubblico un sacco di storie su instagram sono diventata bravissima da quando ho fatto il corso dei social e sto condividendo un sacco di cose su instagram ho visto che tanti di voi che prima non mi seguivano adesso mi seguono mi scrivono soprattutto mi piace perché su instagram uno si può scrivere direttamente invece qui con i commenti youtube poi non mi manda le notifiche io mi perdo i commenti soprattutto le risposte e quindi è un casino invece su instagram ci parliamo molto più facilmente poi lo so che sono a dieta però ho anche visto che non è pesante come cosa e in più mi piace un sacco cioè tutta la confezione c'è 200 calorie è polenta sostanzialmente dipende come la cuoci ma se io la faccio senza olio in frigidrice ad aria va benissimo e questa è quella a rondelle col tartufo perché in realtà c'è anche la settimana dello street food raga questa è la mia settimana preferita quando ho visto il volantino mi sembrava di aver preso una cortellata io mi manierei tutto questa settimana ho fatto un paio di video dove assaggiavamo praticamente tutto e ho preso solo questa c'era un gnocco fritto c'era la focaccia c'erano tutti i frittini tutta la roba pre fritta buonissima ho preso questa cioè sono stata brava poi mi sono presa queste preferisco quelle dell'euro spin però vabbè queste senza zucchero perché ogni tanto il pomeriggio mi viene tipo fame voglia di qualcosa ma per pigrizia più che cioè per noia più che per fame e me bevo una di queste si regalo so che non fanno bene però comunque meglio di niente sono pure senza zucchero poi qui è finito poi per fare il panino a loro ho preso questi bun con i semini e dovrebbe essere pure integrale forse non c'è scritto wheat semini di lino e girasole vabbè non lo so se è integrale comunque gli ho preso questo pane qui che è un po' più morbido di quello dell'euro spin le sottilette burger poi non è vero Luca ha preso questi cercherò di non mangiarli al massimo ne mangio uno solo so gli arancini cacio e pepe buonissimi cioè di questa settimana è tutto buono ma questi sono qualcosa di meraviglioso però vabbè cercherò di essere brava e o non li mangio o ne mangio uno solo patatine sempre per stasera però alla fine cioè sarebbero andati al Burger King quindi un po' meglio io quelle le faccio in frigidrice ad aria anche questi anche questi che sono in realtà la cena perché io il panino glielo faccio sempre con cordon ble insalata sottiletta pomodoro e pomodoro ce l'ho pomodoro e salse e poi gli ce faccio le patatine di contorno comunque questi non li ho mai provati spero che siano buoni non lo so comunque li faccio in frigidrice ad aria poi abbiamo ripreso questi yogurt che la settimana scorsa l'avevamo presi all'MD discreti qui non erano in offerta chiaramente però vabbè vaniglia e palline al cioccolato vaniglia e buffer al cioccolato effettivamente come ha detto Luca meglio lo yogurt che un pacco di patatine e banana e cornflakes al cioccolato poi abbiamo finito la pasta c'ho solo pasta lunga praticamente e pasta piccola da zuppa quindi gli ho detto vabbè prendine solo due perché tanto io fa la spesa preferisco farla all'eurospin però un po' di pasta da vecce quando lui torna dalle serate mezze maniche rigate e sedani rigati pasta così tanto per c'ho spaghetti a profusione ma non c'ho pasta corta non so come sia perché quando Luca la mangia mangia pasta corta e io la pasta lunga la compro perché in realtà mi piace però non l'ho più mangiata a questo periodo perché non sto mangiando tanta pasta preferisco magari mangiarmi il riso o comunque un cereale tipo il farro però non sto a mangiare la pasta quindi la pasta corta era finita la pasta lunga cioè infatti ieri sera che lui è andato a suonare a Monsumano Terme una cosa del genere in Toscana quando è tornato mi aveva chiesto di fargli trovare la pasta l'unica cosa che sapevo erano le linguine e quindi io ho fatto le linguine con un sugo pronto con le verdure cioè una cosa veramente incommentabile poi per carità la pasta è pasta però la linguina non è che si esposa tanto col sugo alle verdure però regà quella c'avevo quella si è mangiato comunque ho visto che è finita perciò insomma diciamo che non l'ha disdegnata più di tanto perciò bene eccolo l'ho trovato tofu tofu ancora tofu ma io non capisco ma poi non è una cosa solo mia perché io vedo pure su TikTok la gente che va alla ricerca di sto coso ma io dico no ma ammettilo che c'è sta sempre ma perché devo aspettare sei mesi per potermelo ricomprare cioè ormai l'ultima volta sarà uscito quattro mesi fa ma mettimelo sempre ma fa pure la confezione più grossa è buonissimo leva quella ciofega senza sapore e metti questo sempre cioè è troppo buono cioè potete fare qualsiasi cosa anche la matriciana cioè è proprio saporito e che cavolo oh è una protesta contro l'idl ufficiale fate e il tofu affumicato in collezione permanente grazie poi allora io c'ho una domanda importante per i produttori di salse boh sarà che gli italiani consumano tutte queste salse non credo mica siamo americani l'altra volta mi hai destrilato tu butti tutta sta roba dentro il frigo il più della roba che stavo buttando sono salse ma io dico no cioè compro il ketchup ma perché lo fate così grosso tra l'altro ce n'erano tre tipi c'era Heinz Calvé e quello dell'idl tutti così grossi ma perché lo fate così grosso ma quanto ketchup me posso mangiare in un mese cioè questo dopo un po' che l'hai aperto voglio dire lo devi buttare senza conservanti senza coloranti dopo un po' che sta aperto se butta conservare il luogo fresco e asciutto è una volta aperta conservare il frigorifero per gustare al meglio il prodotto consumare entro un mese ok quanto ketchup un uomo si mangia in un mese cioè a casa mia non ne facciamo stuso spropositato perché non me fanno le bottiglie normali cioè quelle di una volta perché fanno sti boccioni di ketchup la stessa cosa con la maionese ma quanta maionese le mangiate voi cioè io non capisco falle un po' più piccole che è sto sovradimensionamento dei ketchup per farmelo pagare per forza di più fallo un po' più piccolo così non si sprega ma a me se mi puoi ketchup condisco la pasta che c'è fate con tutto questo ketchup mica siamo americani e che cavolo poi scusate una piccola digressione sul ketchup pomodorini perché in realtà la spesa la faccio all'euro spin ok però almeno i pomodorini cioè non so perché c'è qualcosa da mettere dentro l'alfarro più che altro quindi ho preso pomodorini e poi ho preso le carote vassoglio dei carote sembrano pure belle devo dire la verità in realtà frutta e verdura non ce l'ha malissimo il Lidl quindi si si può comprare anche là comunque pomodorini che costano un'eresia cioè tipo sta cosa da 300 grammi dei pomodorini costa 2 euro cioè va bene io spero che tutte le piante che abbiamo piantato nell'orto con clito e donadella di pomodorini diano i loro frutti quest'estate cioè tipo verso giugno metà giugno comincino a produrre a profusione i pomodorini considerate che ce n'abbiamo più di 30 piante perché i pomodorini non si possono comprare cioè costano veramente troppo però a me i pomodori grandi non mi piacciono tanto quelli piccoli mi piacciono quindi spero che l'orto cominci a dare i suoi frutti anzi questa pioggia potrebbe farli anche bene perché adesso vedo che se sta piovendo fitto se piovesse almeno 3-4 ore sarebbe top per l'orto ma mica per niente perché cioè è un risparmio enorme anche perché le piante quando producono pomodorini poi ne fanno tanti ma proprio tanti quindi cioè sarebbe un risparmio gigante però si impiove anziché adesso carote le carote nell'orto non le possiamo fare ci abbiamo provato un anno ma no non è cresciuta la carota cioè per la carota ci devi avere un terreno adatto alla crescita della carota e il nostro terreno non è farinoso è pezzi grossi quindi non crescono le carote insomma ci abbiamo provato però c'è da dire che ci abbiamo provato non è successo niente e poi il latte di Luca questo parzialmente scremato senza lattosio c'è pure quello col tappo verde che ho scoperto essere scremato senza lattosio è uguale tanto Luca beve solo nel caffè non ci interessa l'importante è che sia senza lattosio se no si sente male poi ovviamente siamo entrati con una sola busta quindi abbiamo preso un cartone che ora mi dovrò tenere due giorni in casa fin quando non arriva il giorno della raccolta differenziata della carta evviva però c'avevo una busta sola ce l'avevamo in macchina poi ma io sono entrata convinta di prendere solo le cose cioè solo il tofu e poi andare all'euro spin invece poi alla fine abbiamo preso tutto qua tutto niente poi perché ho comprato sì è vero che ho comprato 195 cose di tofu però per il resto vabbè ho speso un botto come al solito allora quanto abbiamo speso per questa spesa 44 gatti 44 euro e 0,9 centesimi a cercavolo allora l'hamburger costava 2,09 euro perché in scadenza i cordon ble 3,39 però ho comprato 8 euro di tofu che mi durerà in teoria almeno un mese e mezzo forse non lo so quanto ne mangio perché poi una volta che lo apri è buonissimo lo mangeresti sempre però diciamo almeno un mesetto mi dura quindi vabbè ci sta latte 1,29 per 3 le carote 1,69 i pomodori ciliegini 1,99 per 300 grammi tipo 6 euro al chilo i pomodorini stanno vabbè formaggio fuso a fette 1,35 yogurt 69 gli arancini cacio e pepe 1,49 le patatine fritte 2,69 allora c'erano anche quelle dell'idola che costavano un pochino meno il problema è che era il pacco gigante da un chilo e erano solo per la friggitrice ma io non voglio friggere voglio farle in friggitrice ad aria quindi quelle vengono meglio e poi non mi va di avere un chilo di patatine nel freezer per niente perché sennò poi me le mangio invece quella è una busta piccola capace che gliela faccio tutta stasera così almeno 62 gli energy drink gli avocado 3,29 che hai comprato chi ha niente e ho speso 44 euro vabbè l'affettato vegetale stava a se vi interessa poco mi sembra 1,90 euro peccato che io non lo trovo ah 99 centesimi scusate lo assaggiamo immediatamente questo perché se è buono io domani ne vado a comprare altri 18 quando scade no il 26 maggio che peccato assaggiamo quello con i funghi o quello normale lo normale intanto non ho pranzato quindi mi sa che sta un po' di cibo per gatti ecco allora ecco perché costa 99 centesimi così non si mangia ma poi perché pure questo sa dei funghi non lo so ma ma non mi viene in mente di preciso cosa però è orrendo allora così non si può mangiare proprio aperto e mangiato come ho fatto con la bresaola della valsoia l'altro giorno che era buonissima questo non si può mangiare devo vedere se passandolo tipo in padella può venire una cosa meglio non sa di salsiccia non è piccante sa un po' di Wustel quelli quelli proprio da 39 centesimi no quelle cose proprio no raga questo non lo comprate non vi fate ingolosire come ha fatto Chiara dal fatto che sia affettato a 99 centesimi perché se costa 99 centesimi la bresaola della valsoia è più di 3 euro un motivo ci sarà ci sarà non è buono ciao e no ciao cioè ma lo mangio stesso anche perché devo pranzare magari lo taglio a striscioline lo metto dentro all'insalata lo mangio uguale però no 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 scusa ci stai dando le chiappe ti puoi girare quindi da questo sbuota la spesa in atteso dell'idol è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao